Ciao a tutti, mi chiamo Diego e ho 55 anni. Come un uomo che ha a cuore la salute della sua prostata. Cerco e vorrei sempre testare i migliori prodotti per migliorare la mia salute. Quindi ti dirò tutta la verità e i segreti dietro il integratore prostatricum prima di acquistare effettivamente il prodotto. Quindi se stai cercando maggiori informazioni su questo e vuoi farlo, preserva la tua salute, guarda questo video fino alla fine. Perché ti parlerò degli effetti collaterali, cosa succede, come prendere prostatricum per ottenere i migliori risultati e dove acquistarlo in sicurezza. Ho anche avvisi importanti, quindi presta molta attenzione a questo video. Quindi ragazzi, la prima cosa è stare attenti al sito in cui andate. Acquista prostatricum perché oggi questo prodotto è venduto solo su questo sito ufficiale. Ti avverto perché ho visto prostatricum venduto su siti web falsi, ma sì davvero molto. Attento perché questi prodotti contraffatti possono nuocere alla tua salute e per aiutarti ho lasciato. Il link al sito ufficiale di prostatricum qui sotto nella descrizione di questo video. Puoi fare clic lì più tardi e vedere un po' di più a riguardo. Prostatricum è un integratore per la salute che sostiene la prostata e la capacità del corpo di mantenerti in salute. Prostatricum contiene i più potenti antiossidanti per una sana circolazione e flusso sanguigno e sostiene anche di supportare le risposte infiammatorie del corpo e in questo modo di migliorare il sistema immunitario. Cosa succede quando usi prostatricum? Quando inizi a prendere le capsule di prostatricum, inizierai a sentirti meglio. Diventare più sano e più forte. Perché i potenti antiossidanti del prostatricum hanno effetti disintossicanti e Sostenere i normali livelli di zucchero nel sangue e sostenere il corpo per incoraggiare una buona salute della prostata. Qual è il modo migliore per assumere prostatricum? Ogni bottiglia è composta da 30 capsule realizzate con gli ingredienti della migliore qualità secondo. Produttori di questo prodotto, puoi prendere due pillole al giorno con un bicchiere di Acqua per migliorare la tua salute. Suggerisco di assumere questo integratore costantemente nel corso di alcune settimane per ottenere i massimi benefici. Quali sono gli effetti di questo integratore? Non ha effetti collaterali, non interferisce con il tuo sonno, non lascia segni sul tuo corpo e non altera il tuo umore. Puoi fidarti di questo prodotto. Ci sono molte persone che ottengono ottimi risultati con prostatricum. E puoi anche avere risultati, tuttavia devi tenerlo a mente. Ogni corpo reagirà in un modo unico, questo è un po' ovvio. Ma lo dico in modo che tu possa essere realistico riguardo al tuo trattamento e alle tue aspettative. Come prendere prostatricum? Assumere una capsula, tre volte al giorno dopo un pasto con un bicchiere d'acqua. Come effettuare il tuo ordine e ricevere prostatricum? Lasci un ordine sul nostro sito web. Il nostro specialista comunica con te. Spediamo il tuo ordine in un pacco anonimo. Paghi il tuo ordine solo dopo averlo ricevuto. Solo oggi il 30% sul tuo ordine è effettuato sul nostro sito web. Paghi solo 39 euro. Ultime unità disponibili nel nostro magazzino. Consegniamo il tuo ordine ovunque in Europa. E ricorda, non c'è alcun rischio per te perché prostatricum è coperto da una garanzia di rimborso di 60 giorni. Se non sei soddisfatto di questo prodotto, ti rimborseremo completamente entro 48 ore dalla restituzione del prodotto. Restituisci semplicemente il prodotto in qualsiasi momento entro 60 giorni dall'acquisto e riceverai un rimborso completo e senza domande. Siamo così sicuri che prostatricum sarà esattamente quello che stai cercando. Permettendoti di sperimentare finalmente i risultati che cambiano la vita più profondi che tu abbia mai sperimentato nella tua vita. Te lo garantiamo!